La rigenerazione dei tessuti rappresenta una frontiera dell'ortopedia moderna. Il principale obiettivo è la riparazione biologica delle lesioni della cartilagine mediante tecniche di medicina rigenerativa. La rigenerazione del tessuto osseo, soprattutto quando la lesione è grave, è possibile attraverso l'utilizzo di scaffold. Nella medicina rigenerativa e nell'ingegneria tessutale noi li utilizziamo spesso. Si tratta di veri e propri supporti tridimensionali che permettono alla lesione di guarire. Qui a Rizzoli parte delle nostre ricerche sull'ottimizzazione dei processi di riparazione del tessuto osseo si basa sulla valutazione delle caratteristiche dei biomateriali utili a questo scopo. Questo per offrire al paziente le tecnologie più avanzate ed efficaci possibili. L'attenzione del Rizzoli è rivolta a preservare la funzione articolare con soluzioni che integrino chirurgia e biologia. Tutto questo non basta. Vogliamo fare ancora di più e per continuare a far crescere la ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto. Con il 5x1000, un gesto semplice che a te non costa nulla ma che ha un grande valore per la ricerca scientifica delle Rizzoli. Per destinare il tuo 5x1000 è sufficiente inserire il codice fiscale dell'Istituto 003030374 e la tua firma nell'apposito modello per la dichiarazione dei redditi. Nel riquadro Finanziamento della ricerca sanitaria. 5x1000 all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Sostieni la speranza. www.iore.it 5x1000 chiocciola iore.it